Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Corrado, guarda il mio viso, d'accordo? Guardami in viso, questa è la mia faccia. Tu sei in grado in questo momento, guardando il mio viso, di capire quali sono le mie emozioni? Come mi sento? Che cosa provo io in questo momento soltanto guardandomi in viso? No. Ecco, tu non sei in grado di capirlo, né io sono in grado di capire come stai tu, quali sono le emozioni tue in questo momento. Però diciamo che se io in questo momento cominciassi, che ne so, ad arrossire improvvisamente, oppure se cominciassi magari a tremare negli occhi, oppure se tu vedessi addirittura luccicarmi gli occhi perché sto per cominciare a piangere, allora probabilmente diresti Stefano ha paura, Stefano è triste, Stefano sta soffrendo. Le mie emozioni le vedresti. Sai perché ti dico questo? Perché adesso io ti devo parlare di un bambino. Un bambino di nome Abel, che ha 12 anni ed ha un dono incredibile, è un dono che io e te non abbiamo. Abel è in grado di guardare chi gli sta davanti e capire qual è la sua emozione anche se io e te non riusciamo a capirla. Lui è in grado di percepire se il tuo battito cardiaco sta aumentando, se stai arrossendo, se senti qualcosa. Lui lo capisce prima ancora che tu lo dica o lo manifesti. Ti voglio far vedere la fotografia di Abel, questo bambino che appunto ha questo volto meraviglioso di un dodicenne, ma che come vedi sta sul corpo di un robot. Perché Abel non è umano, è un robot androide. L'ha realizzato il centro di ricerche Enrico Piaggio dell'Università di Pisa, in collaborazione con la Biomimix di Londra, che è una struttura che si occupa a livello planetario di realizzare, per esempio, che ne so, gli automi, i mostri che stanno dentro i film, come Alien, piuttosto che tanti altri successi del cinema. Hanno realizzato Abel, che è un robot incredibile che ha dei sensori elevatissimi, in grado di percepire se il tuo battito cardiaco sta aumentando, in grado di percepire se stai per arrossire, in grado di percepire la temperatura corporea. Abel è in grado di saperlo. Tutto questo lo rende un robot che è all'avanguardia, per esempio, per lo stare insieme, che ne so, con i malati di Alzheimer, faccio per dire, perché avrà un'interazione molto alta con loro. Ma se io stasera te ne parlo, se io stasera ve ne parlo, è in realtà per un'altra ragione. Perché mi sono fatto una domanda. Mi sono domandato se Abel, con questa sua elevatissima capacità di comprendere, di vivere le emozioni, sarebbe in grado di capire che cosa stiamo provando tutti noi in questo momento. E ve lo domando, lo domando a te che ci stai seguendo in questo momento, a casa, che stai guardando Piazza Pulita, perché in questo momento noi siamo stati fotografati, per gran parte di noi, da un articolo, un articolo che ha veramente commosso, uso questo termine, ha commosso e toccato il mondo. Ed è un articolo uscito sul New York Times, dove un famosissimo psicologo della University of Pennsylvania, si chiama Adam Grant, ha definito il nostro stato d'animo con un sostantivo, che è languishing. Che cosa significa languishing? Languishing significa una particolare modalità di emozione che è una non-emozione. Corrado, ti è capitato anche a te, a me tante volte in questo periodo, di parlare con qualcuno e dire come ti senti, come stai? Risposta, boh, non lo so, non lo so come mi sento, ma cosa stai facendo? Ma niente. Ecco, questo è il languishing. Viene definito così dalla psicologia ed è una specie di terra di mezzo nella quale provi qualcosa senza sapere cosa sia. È una terra di mezzo nella quale non ti emozioni più, non ti riscaldi più, sembra che la vita ti esca dalle mani. Cioè, quel libro meraviglioso, tutti dovrebbero leggerlo, perché è un romanzo strepitoso, è la storia della letteratura russa, che è a Negin di Pushkin, in cui si racconta la storia di questo personaggio che fondamentalmente galleggia sulle cose, no? Il bene, il male, la felicità, l'infellicità, la sua stessa felicità, la sua stessa infellicità, sembra che non lo riguardino più, non riesce a stringere la vita, la vita gli scorre addosso come l'acqua. Ecco, la sensazione è che dopo la pandemia ci sentiamo un po' così. Abbiamo vissuto, tutto il mondo l'ha fatto, delle percezioni, delle sensazioni molto forti, abbiamo vissuto per la prima volta la paura, abbiamo vissuto il terrore, abbiamo vissuto l'ansia, l'angoscia, e adesso che tutto quanto sembra ricominciare e ti viene detto che finalmente tu potresti ricominciare a vivere, è come se fossimo bloccati. La vita è come se adesso ci facesse paura e non riusciamo a viverla fino in fondo. Ci scivola fra le dita, ci scivola fra le mani, non sappiamo più da che parte prenderla. E quindi, paradossalmente, il rischio che abbiamo è che proprio adesso che tutto sta ricominciando, invece che vivere, ci lasciamo vivere o galleggiamo nell'ovatta. Ciao a tutti.